Buongiorno, buongiorno da Ospedaletti. Siamo qui con la FIERRED. Potete dire qualcosa di questa manifestazione? Sì, questa parazione. In realtà, molti anni fa, ho racedo qui. Ho venuto qui tre volte e ho vinto tre volte. Ho ancora preso due record di lap, la 125 e la 250, sulla 4-cylinder Yamaha. Ho racedo la Ducati qui, e ero il secondo dietro di Giacomo Agostini sulla nuova Ducati. In ogni modo, è un evento fantastico qui, perché tutti sono molto entusiasti. La città è buona, il sole è buono, quando non regnava oggi. Quindi, ti piace l'Ospedaletti? Sì, è meraviglioso. È un circuito molto challenging e anche molto pericoloso. è un circuito. È un po' come l'Isle di Man, ma un piccolo Isle di Man. Sì, ovviamente. Quindi, tomorrow, saranno i tuoi motorbike? Sì, saranno i tuoi 500 motorbike, una rosa. Normalmente sono verde, ma verde è il mio colore. Quindi, ho fatto rosa. Molto bene. Ok, grazie molto. Spero che ti piacerebbe il giorno. Grazie. Grazie.